Upas, anticipazioni al 28 giugno, Diego mette in crisi Ida con una proposta spiazzante. Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda dal 24 al 28 giugno confermano che la trama relativa al piccolo Tommy sarà ormai vicina al suo epilogo. Sembra che Ferri si convincerà che arrendersi sia l'unica soluzione possibile, mentre Lara continuerà il suo percorso di redenzione. Inoltre, attenzione a Diego e Ida, i due faranno progetti per una vita insieme, tuttavia, la giovane mamma di bambino mostrerà alcune perplessità a una proposta del figlio di Raffaele. Nel frattempo, il boss torrente preparerà la sua vendetta contro Edoardo e Clara, ma Damiano potrebbe risolvere la situazione. Saranno drammi anche al San Filippo, dove la situazione di Luca sarà sempre più fuori controllo, mentre l'infermiera Yolanda avrà un preoccupante malore. Per finire, Silvia e Michele spingeranno Claudia ad allontanarsi da Guido. Roberto rinsavisce, Lara riceve una proposta da suor Maura Roberto deciderà di rispondere all'attacco della giornalista e, per farlo, chiederà aiuto persino a Filippo. L'uomo resterà sempre più solo, tuttavia, ad un certo punto, se ne renderà conto e capirà di dover lasciare Tommy alla sua mamma e di doversi dedicare a Marina. Sul fronte di Lara, quest'ultima affiderà un segreto del suo passato a suor Maura, ai suoi figli e ai suoi nipoti. La religiosa, in risposta, farà una proposta spiazzante alla donna. Secondo alcune teorie, Loredana potrebbe iniziare un percorso da novizia o, comunque, restare al convento in pianta stabile, completando il suo percorso di redenzione. Suor Lara potrebbe quindi diventare realtà, anche se ogni ipotesi è ancora aperta. Per finire, Diego e Ida faranno progetti come una famiglia. Un momento di vicinanza tra Tommy e il giovane Giordano spingerà quest'ultimo a fare una proposta che metterà la giovane in crisi. Ipotesi e conclusioni, Ida lascia Diego? Il vero colpo di scena potrebbe quindi venire da Diego e Ida? I due sembravano vicini ad iniziare una vita come una vera famiglia assieme al piccolo Tommy. È facile ipotizzare che Diego possa chiedere alla ragazza di sposarlo, tuttavia, la risposta di Ida non sarà quella che Diego si aspetta. È stato mostrato più volte come Ida non sembri coinvolta in questa relazione tanto quanto Diego. La stessa ragazza lo ha ammesso, del resto. Una volta riottenuto Tommy, la ragazza potrebbe quindi decidere di tornare in Polonia o di lasciare Palazzo Palladini, dicendo addio alle persone che l'hanno fatta soffrire, ma anche addio Diego. Su questo, però, non c'è certezza e occorrerà attendere i prossimi giorni per saperne di più. Clara avvicinata da due uomini, Luca commette un errore e il boss torrente proverà a colpire Clara per vendicarsi di Edoardo. La donna verrà avvicinata da due uomini su uno scooter e partiranno dei colpi di arma da fuoco, proprio nel momento in cui arriverà Damiano. Silvia e Michele cercheranno di convincere Claudia a scoraggiare Guido per non rovinare il suo matrimonio. Grazie. Grazie.